questa edizione straordinaria va in onda per informare il popolo della schiavitù tutto che durante la notte è stato diffuso tramite un canale youtube un ennesimo video messaggio del sedicente sub comandante eusebio badalcanil delle fantomatiche brigate di liberazione spartacus desarmato il testo del messaggio fa riferimento a concetti eversivi dello status web quo quali caos possibile invisibilità creatività e addirittura non luogo il presidente l'unico ha impartito immediate disposizioni al ministro delle ronde e del disordine pubblico del popolo della schiavitù salvatore infurna al fine di svolgere le più accurate indagini in relazione a questo ennesimo minaccioso messaggio del sub comandante eusebio nel contempo è stato dichiarato lo stato di emergenza di livello blu in forza del quale ogni schiavo è tenuto a porre in atto tutte le azioni necessarie per stanare e assicurare all'ingiustizia gli eversori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti